Il Comune di Mantova partecipa all'edizione 2012 della giornata nazionale del trecchio urbano. L'itinerario che verrà proposto il 21 aprile sarà un itinerario dedicato all'acqua, infatti Mantova come potete vedere è una città d'acqua circondata dai tre laghi e quindi l'itinerario che proporremo è un itinerario dedicato alla scoperta del forte legame che la città di Mantova ha con l'acqua e proseguiremo poi per una visita alla città di Sabioneta, la città di Vespasiano Gonzaga per scoprire anche lì il legame con l'acqua quindi un itinerario dedicato al sito UNESCO Mantova e Sabioneta. Vi aspettiamo numerosi il giorno 21 aprile tutti a Mantova per vedere questa meravigliosa città che sorge dalle acque.